Ciao a tutti strambodio e benvenuti in questo nuovo video, io sono sempre Sequestro e noi oggi siamo tornati in un nuovo e bellissimo We have a boom on flip favorites di marzo e sono ufficialmente due anni che faccio i we have a boom on flip favorites, yay! Ricordo che i we have a boom on flip favorites sono molto importanti perché oltre a dirvi quello che ho visto, letto, giocato, fatto e in generale per tutto il mese do delle news importanti e vi invito anche a seguirmi su Instagram, su Facebook e in generale supportatemi con i link che ci sono in descrizione e i we have a boom on flip favorites sono anche importanti perché do delle news mensili che potete vedere sia su Instagram che su Facebook ma per chi non mi segue può vedere qui Direi di partire allora direttamente con le news perché appunto come avrete letto dal titolo la grande news di questo mese che avevo annunciato già nel mese scorso e che ho aperto finalmente il Fiverr Fiverr che ho aperto è una sorta di negozio per commissioni quindi ci sono al momento due, tre tipi di commissioni che potete chiedere che sono le versioni pony, le versioni chibi e le semplici fan art, ho intenzione di metterne altre però comunque spero che vi possa interessare, vi possa piacere ancora non ho avuto modo di fare molto quindi insomma vedrò nel tempo anche io mi devo un pochino ambientare anche perché un po' è tutto in inglese quindi non ho capito se ho fatto tutti i passaggi bene quindi sì posso farvi tutti i disegni che volete, il link è giù in descrizione e spero di essere magnanima con i prezzi perché diciamo che una cosa brutta è che i prezzi vanno messi a moltipli di 5 purtroppo quindi se tipo io volevo fare gli sketch, tipo sketch a bollo così a tipo 1-2 dollari e no non si può, almeno 5, io tipo bro 5 euro è troppo, davvero tanto, è davvero tantissimo quindi insomma è un pochino da vedere a queste cose fatemi sapere che cosa ne pensate, se siete interessati in ogni caso lo trovate in descrizione spero che sia facendo con ciò che ho visto, per prima cosa ho visto fascisti su Marte davvero morire da ridere, è davvero sottile ma quella comicità sottile ma di cultura che non si vede sempre è davvero apprezzabile, considerato anche che avevo studiato il fascismo due settimane prima è stato davvero esilera poi Inventing Anna che ho letteralmente adorato a me il personaggio di Anna piace tantissimo, la trovo proprio intelligente, di classe, bellissima, consapevole della sua bellezza e di tutto il suo potenziale ed è veramente fantastica a starmi antipatica invece è la giornalista che si continua a lamentare di se stessa, della sua condizione sono una giornalista in mezzo ai uomini e quindi si continuava a lamentare ma poi certe scelte proprio da sciroccata di cervello tipo, no vabbè andiamo in Germania per indagare, lasciamo mia figlia di un mese a casa, ma stai scherzando gioia mia scusami, ok il tuo lavoro la tua realizzazione personale, ma hai una cazzo di bambina e ho visto LOL 2 che vi devo dire io come stagione ho preferito di gran lunga questa rispetto a quella dell'anno scorso mi ha fatto davvero morire da ridere, l'anno scorso erano battute un pochino me, un po' vabbè sì ok divertente ma non troppo invece questa mi ha fatto davvero morire, a farmi morire è stata anche Virginia Raffaele con l'imitazione di Marina Abramovic perché due settimane dopo, la settimana dopo aver visto LOL, la nostra professoressa di scultura ci ha assegnato a ognuno di noi uno scultore, un artista e ha assegnato anche Marina Abramovic e io tutto il tempo non potevo morire segui anche Trese su Netflix, anche se come serie mi è rimasta un po' anonima diciamo che mi intrigava un po' l'aspetto dark della serie però è uscita, intanto graficamente è orrenda, cioè io non so quanto budget hanno messo però mi ricorda proprio i cartoni animati primi 2000 dove c'è un frame tipo i personaggi stanno fermi così e poi c'è soltanto la bocca che si muove davvero come grafica mi ha lasciato molto a desiderare, cioè non mi è piaciuta tanto però diciamo che Alexandra è molto waifu material, questo lo ammetto dopo un breve periodo di niente invece a scuola nostra è arrivata la settimana dello studente quindi nel dolce far niente abbiamo deciso di vedere dei film prima di Comune Accordo e seguendo la lista c'era Bohemian Rhapsody che è un film bellissimo che a me è piaciuto, l'ho visto quando sono andata al cinema quando era per uscito e quindi sì, bello, bellissimo però ho finito Bohemian Rhapsody, insomma c'era un'ora e mezza libera allora abbiamo deciso per un film di gran lunga superiore e ci siamo visti Barbie, le 12 principesse danzanti old but gold per chi non l'ha visto, vergogna e due giorni dopo, sempre a scuola, visto che avevamo tempo da perdere ci siamo visti anche Midnight in Paris che sì, ok, molto bello perché si incontrano tutti gli artisti ma vogliamo parlare che il protagonista è lo stesso che fa il modello Beyond and Zoolander e mi ha fatto davvero molto ridere per tutto il film e poi vogliamo parlare di quanto sia tossica la sua fidanzata cioè, ma sei un cretino per stare con quella ragazza manco fosse, non lo so, manco ce l'avesse d'oro che dice ok, ma sei proprio scemo un'altra cosa che mi sono dimenticata di dire nel Weaboo è che praticamente ho iniziato, cioè è finito My Dress Up Darling Dress Me Up Darling, insomma e niente, io l'ho adorato come sapete avevo iniziato anche con cura a fare ss cosplay però appunto sia per il covid è sfumata questa cosa e quindi, cioè, mi ha lasciato davvero con un grande sorriso passando invece ai giochi l'unica cosa che vi consiglio di recuperare è l'episodio 11 di Eldaria Anuera che è uscito tutto sul canale e potete andare a recuperarvelo succedono tante cose poi ho comprato alcune cose da Shane per la quale domani uscirà un video haul quindi restate sintonizzati perché domani alle 2 uscirà il video haul di queste cose di Shane fra cui non questa maglietta perché l'ho comprata dopo aver fatto il video anche per sto mese è andata molto breve però, va bene così capitemi, sono impegnata capitemi davvero comunque, è giusto il momento della salsa del mese che è questo mese 39, 60, 21 per il resto è un niente se il video vi è piaciuto mettete mi piace commentate, condividete e iscrivetevi al canale ciao a tutti